Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Siamo qui e stiamo facendo il video vlog dell'incontro di Roma Qui ovviamente mi prendono per folle perché parlo da solo con una videocamera Però il nostro treno... Ormai mangi il video da cittadino Il nostro treno ha fatto ritardo di 70... Cioè, si dice che faccia ritardo di 70 minuti, però who knows? No, no, no... No, no.. No, no... Ed, in questo minuto, Perona e sono tre bagliate con la... Asciugamento, ok? No, no, no... Allora... No, no, no... Sì, sì, perché è una frase di Martin Luther King. E ce l'ho in un segnalibro che ho scimato dalla mia prontina. Allora, praticamente, comunque sì, è vero, è sempre come ti vuole fare la cosa interessante. Voi, chi vuole, posso fare il pranzo. A me sto chiesto che abbiamo bisogno di spiegazione. A me sto chiesto di spiegazione. La frase è più bella. Va, vediamo un po'? Ok, chi vuoi fare? Winter is coming! A me! E' la morte proprio! Allora, vabbè, Winter is coming è il trono di spade! Trono di spade! Vai! Aspetta! Un'estate da vivere in tre! Insieme! Qualcuno manca? Se puoi sognarla puoi farlo! Certo! Io c'ho quello di lui, lo troveremo! Ciao! Ciao! Vai, il vlog è il vlog! Io voglio qualcosa di Trilly! Io sono fissata con Trilly! Se non si fosse capito! Se non si fosse capito! Ma che cos'è? What is that? Oh mio Dio! A dire per la scuola, che è? Bellissimo! Ma non lo so, c'è scritto Evil! Tanto basta! Ma che cos'è? E' una penna, è una penna! No! Lo voglio! Ludo! E' bellissimo! Lo so! Oh! Io zoom zoom! Io zoom zoom! Oh mio Dio! Vediamo se c'è! C'è Jack! C'è Jack! C'è Jack! C'è Jack! Sono bellissimi! Dov'è Jack? No! C'è Jack! E non c'è nemmeno Zero! Però c'è Sally! 5 euro! Si c'è Scuola! Oh! Divoli una bestia! Anche io! C'è Jack! Ma io voglio questo! C'è Paymax! C'è Paymax! Oh hai visto? Sta qui! Ma io me lo prego! Chi ti si incula? Chi ti si incula? C'è Pascal! Oddio non lo riesco a prendere! Non riesco a prendere Pascal! Sono accattivo! Sono accattivo! Sono accattivo! Sono accattivo! Sono accattivo! Pascal! Pascal! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ti prego lo voglio la notte da abbracciare! Perché nessuno è accattivo! Ormai con i pelucci sono lei! Sono io dici! Sono una pisellina! Una pisellina! Guarda il suono! Sono bello! Sono bello! Sono bello! Sono bello! Sono bello! Oh mio Dio! Ah! Sono bello! Sono facendo tutto il blog! Ciao! Oh mio Dio! Siamo facendo tutto il blog! Ciao! Non è che sia più bello! Ciao! Ma no! Firebird! Mero 15%! Ok! Sì! Ciao! Giovi! E niente! Adesso! Eppure tutte le volte che ti ho scritto ti amo! Lo vorrei leggere! Lo vorrei leggere! Ciao! Adesso ci cacciano! Sì! Grazie a voi! Sì! Grazie a voi! Anche io stavo facendo il blog prima! Però non mi avete guardato! E la rifallo! Adesso ci cacciano! Siamo esauriti! Vlog nel vlog! Ce ne saranno almeno 10 volte che facciamo vlog nel vlog! Ma non fa niente! Salve a tutti ragazzi! Riccino a me c'è Sara! Che parla nel suo vlog! Comunque niente ragazzi! Ciao! Abbiamo appena finito l'incontro ed è stato bellissimo! Mi fa ridere che Sara diceva il disagio! È stato bellissimo! È stato... Sì! Siamo tutti vloggando! Abbiamo venito già! È stato troppo, troppo disagio in questo vlog! E niente! Voi dovete vedere il vlog di tutti quanti perché poi ci sono pezzi su pezzi! Comunque è stato bellissimo e ringrazio anche tutte le persone che sono state con voi perché sono venute a sacco e... Oh mio dio! Cioè! Va bene! Siamo andati in libreria! E siamo andati al Disney Store però l'avete già visto! E mi stanno andando anche qui nel braccio! Quindi io vi saluto qui! Non lo so, ci vediamo dopo! Ciao! Let's get up! Ma no, che cosa bella. Ludo? Lei è contista con la parola. Ciao! E non lo sapevo! Sì, perché siamo usciti dallo YouTube Creator Day, vabbè non so parlare. E ho incontrato Marco che è praticamente un altro YouTuber che fa cover. E noi siamo anche usciti insieme un sabato e non lo sapevamo. Non lo sapevamo, vabbè, queste cose. Ma poi tipo lui stava in fondo lì, anche io arrivo e lo guardo e faccio... Ma quello lo conosco! Lo conosco, ma... Ma questa la conosco! Perché pure lui mi ha guardato in modo un po' tipo... Ma questa la conosco! Ho detto, ma vuoi fare fuori di merda, scusa, ti conosco! Esatto, e quindi poi a un certo punto ho detto, ma io forse lo conosco, forse, in una vita precedente. E niente, poi alla fine è uscito, in realtà siamo usciti insieme, quindi vabbè. Quindi tirassonati a dire stronzate, non ci ricordavamo. Esatto, comunque, niente ragazzi, questo YouTube Creator Day è stato qualcosa di fighissimo. Abbiamo incontrato Violetta Rox, è stato veramente molto emozionante, molto istruttivo. E mi è davvero piaciuto un sacco, poi ve ne parlerò magari meglio. Quindi niente, noi ci salutiamo, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. E vi mando un bacio! Ciao! 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 Grazie.